Eccoci qua ragazzi, dobbiamo fare attacco, sappiamo come funziona, dobbiamo eliminare tutti i nemici con attacco In questo caso avete notato ho messo in mezzo lei, parte perchè serve Seconda cosa Seconda cosa Lei Come posso dire, lei Stordisce molti nemici, quindi mi serve questo, apposta Lui stordisce, sviene e controlla Lei ci cura tutti e lei può paralizzare chi rompe le scatole, insomma D'accordo ragazzi? Quindi siamo proprio equipaggiati in questo Potevo usare il pesante, però dovevo anche un po' liberlarlo per le sue caratteristiche Quindi più livello, cioè li addestro in le mie unità, meglio è Infatti credo che ho addestrato palesemente tutti Tranne... Eh, devo livellare un po' il medico, eh Addestrare il medico, lo devo fare Partacco confermato, proteggete i civili Ovviamente Vediamo... e poi devo rimettere un po' il pesante, il tank con me in squadra Da un bel po' che non combatte Benissimo Quindi abbiamo tutti, vedete, scudo E' ora di far vedere chi comanda Andiamo Che apriti, non c'è un ca... Allora, stiamo buoni Cobra La torretta Fai fuori su la torretta Io non penso a niente Vedo torretta, attacca la torretta Il cobra ci penso dopo Prima distruggiamo la torretta Dai, non c'è credo Basta Oh, quant'agente comunque, eh Vabbè La torretta però fa 11 di danno Devo ricordare che la torretta è un... È una cosa elettronica, è vero Mannaggia, sono io cretino Vabbè Ho sprecato qualche munizione, effettivamente Oddio la mappa Raga, la mappa, oddio Vedendola così, mo' l'ho riconosciuta E' la mappa che fece la volta scorsa Guardate Guardate Abbiamo fatto solo la mappa al contrario E vedo brutta gente Mamma mia Allora Allora Vai, vai ora Minchia Che danni brutti Scusami amico Non volevo Vittime rimaste due Ops Scuscia Scuscia Non volevo Oddio E te che ce fai là Mo' l'ho visto Minchia Il sicario Il sicario Madonna Brutto Vabbè Però l'ho colpito in pieno Mi dispiace Sono che ho ammazzato A quel po' Sto pensando Sto pensando Vieni qui Allora Per prima cosa Cinque Ne lo stasciamo I cazzi Mamma mia Che mira Fatto male No Non lo fare Già Ho capito Che vuoi fare Non ti azzardà Proprio Non ti azzardà Manco Neanche Se lo volessi Proprio Ecco Così impari Dai Colpisci uno Dei tuoi amici Mizzica Che mira Brut Potente Wow L'ha stordita Male L'ha stordita Malissimo Curarla Subito Easy Proprio Allora Per prima cosa Curiamola Se no Perdi il turno A me Mi servono Integri Questi Perché Quello Tanto L'avrebbe Perso Il Berserk Quindi a posto Prendi E divertente No Si è bloccato Si è Si è bloccato L'animazione Peccato Minchia Vabbè Schivata Taglio lieve Graffio lieve Questo è un castordito Giusto? Ottimo No Vediamo se riesco A fare una cosa A fare una cosa Che non è facile Ovvero Questo Ho uno però L'ho controllato Sì scappato Si scappato Brava Sì scappa bravo Fido Meno mai che manca Ciao Oh ciao Ti conviene Non scherzare Ma se io Ma se io aia vabbè lei è sicura giustamente dai che lo sconfiggiamo a turni guarda a me fa ridere che lei madonna si è leggermente buggato vabbè sconfitto il cobra brucia la tua mente sparisce bellissimo e adesso faccia una cosa bella ah perché ho controllo anche su di lui lol non ci avevo pensato andiamo andiamo veniamo come non ci possono domani pum stordito e madonna che partitona vabbè 7 le munizioni stanno per finire poi menalo di nuovo ok vittoria everywhere proprio mamma mia che partita però per sicurezza io voglio mettermi questo voglio mettermi qui ottimo e adesso figo 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 quindi abbiamo controllato uno nella mente abbiamo vinto con uno controllo ah fichissimo madonna che cosa figa oh che bello la soddisfazione comunque eh madonna quanto ho abbassato mamma mia quanto raga quanto tantissimi e sto pure contento che eh sì perché giustamente allora faccio così te cac ah ah ti è ottimo aspettate ottimo oh potenzialmente wow me lo so scordato della mobilità vabbè togliamo la ferita e disabilitiamo un attimo te andiamo qua ovviamente così mamma mia quanto sto togliendo raga qua non ho niente da poter non ho nessuno da fare per il momento perché dovrei fare esplosione da irruzione che cosa consiste questo scusatemi bomba da tre eh tregua ok bomba fumogena bomba accecante vedete equipaggiamento del progene che cosa fa progenitalon disco di dico scudo ah scudo mentale bellissimo scudo mentale ci vuole questo invece a granate equipaggiamento vede ok kit mesi migliorate questo io dovrei migliorare in teoria androidi ok area ricercata migliorata permette di assegnare due agenti nell'area ricercata questo sarebbe un po' interessante in teoria quindi ottimo vediamo un po' tanto sono cinque ore quindi non è un problema cinque giorni perché per il momento sono messo discretamente andava bene eh wow questo sarebbe stato interessantissimo ancora devo sbloccare questa cacchio di cosa mamma mia aspettate perché vedete come sto facendo allora te te voglio bene però mi serve la mira per te te voglio bene ma la mira la mira serve a tutti fidate e il critico ecco così ho più probabilità lo so che sei ferita dai che è andata bene ottimo sono messo discretamente bene ok raga salvo sempre così la gente non pensa che ricomincia da capo le missioni a caso bene al prossimo video raga qui dal 38 passo e chiudo